Questo è lo strumento vero e proprio con cui noi ci confrontiamo, con cui gli appalti, le opere e quant'altro ovviamente si confronta per dare poi avvia a quelli che sono i lavori di cui tutti parliamo giornalmente. È chiaro che questo era un provvedimento molto atteso, io appena sono arrivato avevo trovato su mio tavolo alcune proposte che arrivavano da percorsi del passato ma che non trovavano la corrispondenza con l'associazione di categoria. Quindi abbiamo riattivato anche con un investimento importante, circa 35 mila euro da parte di questa giunta, la collaborazione con Union Camere in modo da poter valorizzare quelle commissioni di esperti che potessero lavorare al documento che trova la realizzazione finale nella delibera di giunta di quest'oggi che credo fornisca proprio l'ABC per quanto riguarda il confronto sui temi importanti come lavori pubblici, le infrastrutture e l'edilizia. Spero e credo per come mi arriva il sentore positivo del lavoro fatto da questa giunta che possa essere un lavoro ben fatto ma soprattutto un lavoro che potrà essere aggiornato poi nel corso del tempo. Quindi un lavoro che sarà in continua evoluzione perché il dialogo con l'associazione di categoria dei costruttori ovviamente di tutti i facenti parti di questo mondo è fondamentale anche per una giunta che non vuole imporre nulla ma che vuole dotarsi degli strumenti necessari a poter far lavorare le aziende ma anche di ovviamente un dialogo per arrivare a quegli strumenti in maniera condivisa come abbiamo fatto per questo provvedimento molto atteso.